La fatica e la gioia, una raccolta di testimonianze dove tu gioia hai fatto il co-curatore. Come è nato questo progetto? È nato da un'idea di don Arturo Cattaneo. Nel periodo tra i due sinodi, quello straordinario e quello ordinario proprio dedicato alla famiglia, ha voluto raccogliere proprio delle testimonianze di famiglie e ha chiesto a me perché per molti anni alla giornata del popolo mi sono proprio occupata di una pagina dedicata alle famiglie e grazie a cui ho incontrato tantissime famiglie. Ed era anche un mio sogno, un mio desiderio nel cassetto proprio di ripescare questi incontri, queste storie che mi hanno colpito e sorpreso e riproporle in un libro. Io ho seguito prima un po' dall'esterno, poi più da vicino il lavoro che ha fatto gioia e devo dire che è ben riassunto nel titolo del libro, cioè ho visto fatica e gioia in questo suo lavoro. Inizialmente io personalmente ogni tanto ero anche un po' critico perché già tirare su tre bambini piccoli è faticoso. Lei doveva fare questo nel tempo libero e la vedevo ogni tanto proprio fare fatica e dentro di me mi dicevo ma è proprio necessario. Poi lei mi raccontava tutte le serie prima di andare a letto c'era la storia di una famiglia. Quindi diciamo io mi considero uno dei primi lettori del libro anche se lo leggevo attraverso i suoi racconti. Questo progetto e questa proposta mi aveva affascinato perché erano proprio le famiglie a raccontare di sé, a ripercorrere la loro storia, a ripercorrere la loro avventura, raccontando la quotidianità e la straordinarietà della loro vita. Cos'è che accomuna tutte queste storie? Tutti riconoscono e questa è la cosa che mi ha colpito di più, che la fatica, l'errore, il limite non hanno l'ultima parola sulla loro vita. Loro riconoscono che c'è la presenza di qualcun altro che niente è accaduto a caso e che tutte le fatiche, i limiti e gli ostacoli fanno parte di un cammino. Affinché esca fuori la loro umanità, chi sono loro, che posizione prendono di fronte alla vita. Il buon Dio fa accadere il bene e sostiene tutte le famiglie, che siano cristiane o no. Per cui è possibile un'esperienza di unità e di bellezza anche fuori un cammino cristiano, perché questo io l'ho visto in altre famiglie. Però la scelta di chiamare a testimoniare famiglie cristiane era perché loro aiutassero tutti, cristiani e non cristiani, ad andare all'origine della bellezza e dell'unità che accade in ognuna delle loro vite. Proprio il titolo La fatica e la gioia può trarre in inganno inizialmente, nel senso non è che queste sono storie di famiglie che nella loro vita fanno un po' fatica e un po' godono. Per cui la vita è gioia e dolori, allora ogni tanto bisogna compensare le fatiche con qualche momento di gioia. Magari inizialmente è così, quando subentra la circostanza avversa. Invece quello che noi abbiamo visto in queste testimonianze è che il cambiamento proprio, e quindi anche la possibilità per una famiglia ancora oggi di vivere una bellezza e di testimoniare, il cambiamento avviene quando uno si accorge che la fatica non solo non impedisce la gioia, ma è proprio il canale preferito per poter vivere una gioia più piena. Come è cambiato lo sguardo sulla vostra famiglia grazie a tutte queste persone che avete incontrato? Per noi è stato molto prezioso, lo è tuttora, leggere di famiglie in fondo come noi, che passano per circostanze diverse più o meno difficili, eppure vivono una letizia. Perché questo per noi è una questione quotidiana, cioè come vivere e anche comunicare ai nostri figli una letizia nel vivere quotidiano, senza fare cose particolari, ma affrontando la giornata. Quello che ho capito chiaramente è che è proprio Dio, il Signore, che stabilisce un'alleanza con la coppia che dona la loro vita a Lui. Cioè che è Lui il vero fedele, è Lui quello che resta fedele alla coppia. E nonostante i sbagli, gli errori, le delusioni, i limiti di un uomo e di una donna, continua a essere fedele appunto al progetto di felicità che ha su quelle due persone. Molte, anzi dire tutte le testimonianze che io ricordo di quel libro, mostrano proprio che non dipende tanto da nostra capacità, quanto da una nostra disponibilità ad accogliere la strategia di un altro. E proprio l'incontro con famiglia o con altre coppie che sono in cammino su questo, è proprio per noi un'occasione per ricapire, per riscoprire chi ci ha presi. Perché la fede, lo vediamo, è proprio un dono, è qualcun altro che prende l'iniziativa, che ti viene a prendere lì dove sei, con tutti i tuoi limiti, con tutti i tuoi dubbi, e comincia a scrivere una storia con te. Noi abbiamo realizzato i video che state vedendo sui monitor. Che effetto ti ha fatto vedere le storie che avevi raccolto? Sono stata contentissima, sono stata contentissima perché lo scopo era proprio che emergessero, che potesse arrivare a tutti la loro testimonianza e la loro storia. Per cui mi sono detta guarda come un progetto di fatto semplice, abbiamo avuto un eco così. Che bello che possa arrivare veramente a tutti. Io da studioso della comunicazione ho imparato e insegno che bisogna sempre partire da uno sfondo comune, da ciò che già si condivide. Anche chi non ha fede non è diverso da noi perché, cito l'espressione di una nuova famiglia cristiana che abbiamo conosciuto in Inghilterra e che è da più tempo lì e ha cominciato a conoscere e a interloquire con famiglie non credenti, abbiamo tutti lo stesso cuore. Se noi abbiamo fede, perché siamo dei privilegiati, abbiamo un dono, ma in quanto esseri umani abbiamo tutti lo stesso cuore. Per me il confronto con le famiglie non credenti è prima di tutto una provocazione per noi. È un test per vedere se per noi la fede è un'aggiunta, e allora è inutile anche per noi, o se veramente è qualcosa che permette proprio di vivere l'altezza del desiderio del nostro cuore. E in fondo quello che viene fuori anche da queste famiglie è proprio che l'umanità della fede, cioè la fede come qualcosa che permette proprio di essere più uomini. E quindi si parte dall'uomo. Si parte proprio da lì, cioè dal desiderio grande che abbiamo ai confronti della vita di far felici i nostri figli, di essere brave mamme, di costruire una famiglia contenta e in grado di affrontare qualsiasi difficoltà, qualsiasi sfida. Le circostanze avverse, che inizialmente magari sembrano solo fatica e tradimento della vita, la vita ti ha tradito, diventano invece proprio circostanza privilegiata, cioè mezzo strumento, invece bobo per vivere una gioia ancora più grande. Questo ci testimoniano queste famiglie, queste persone sono liete nella fatica. Ci sono tantissime famiglie che veramente eroicamente si amano, si vogliono bene, accettano figli malati, adottano, ce ne sono tantissime. Io non credo proprio che sia un'esclusiva delle famiglie cristiane, assolutamente. Però queste famiglie cristiane riconoscono chi sta all'origine, chi sta dietro del bene che accade nella loro vita. E allora lì diventa interessante perché può essere un richiamo veramente per tutti. Io mi ricordo quando stavamo discutendo sul titolo del libro, questi due giornalisti non erano molto convinti che apparisse nel sottotitolo famiglie cristiane, perché dicevano Poi oggi la maggior parte della gente non è proprio così credente e soprattutto praticante. E allora dicevano famiglie cristiane, insomma, vabbè, è una cosa per i cattolici, lasciamo via famiglie cristiane. Ma io ho detto no, però non dobbiamo avere timore di dare anche questa testimonianza convinta del valore della fede della nostra fede cristiana.